Lancia si proietta nel mondo digitale presentando l'ultima serie speciale dell'utilitaria best-seller italiana, Nuova Ypsilon Unica, una tiratura limitata che si acquista solo online e che strizza l'occhio ad un pubblico giovane interessato allo stile e alla connettività. Un solo colore è disponibile, il nero vulcano, impreziosito da dettagli cromati, unica come la motorizzazione e i tre cilindri mild hybrid in grado di contenere i consumi e offrire una buona accelerazione grazie al moderato aiuto fornito dal propulsore elettrico. Il segreto della nostra Ypsilon è stare al passo con i tempi e reagire velocemente alle nuove esigenze dei clienti, ancora una volta in modo ingegnoso introducendo la prima Ypsilon che si può prenotare ed acquistare esclusivamente online.